Ragazzi prima che inizi il vero video voglio dirvi che praticamente io tutto contento questa mattina mi sono messo a registrare un game normalissimo Ma a un certo punto la mia connessione ha deciso di non collaborare e mi è crashato per tipo non lo so quanti minuti ma troppo tempo E quando sono andato a rilogare praticamente erano tutti 5-6 livelli più alti di me e la partita era praticamente quasi conclusa Quindi ho deciso praticamente di buttare quella registrazione e fare un'altra partita E queste piccole clip che state vedendo mentre parlo sono proprio di quella partita sfigata Quindi vi lascio alla nuova partita Bella Ok no fermi tutti siamo riusciti ad andare solo così non c'è problema Ah ok ho provato la mia seconda spell praticamente è semplicemente un danno avanti così molto easy da quello che ho visto Oh che figata la mia 1 è bellissima metto l'ombrello avanti a me e vado dritto per dritto Cioè posso girarmi in realtà è però è carino Una specie di charge continua Sto da solo su questa lane non so cosa stai succedendo effettivamente Potrei andare a fare un ganchino bot Eh si bot mid Ci andiamo? Andiamo! Ah yeee Me l'ho portata via Ah è squisciata È squisciata via Porcaccia miseria Sono sbagliato pure a premere il tasto Oddio non ho preso la seconda spell La terza spell anzi Non stare così in panico per i personaggi Le build e tutte queste cose qua A me mi ricorda un sacco quando stavo All'inizio e giocavo al lol Oh io ti spacco tutto Nooo What? Ah no ok Oh Allora? Qualcuno è morto Ah mi sta dando cortesemente i flu Che carino Oddio non so se me lo da Credo Adesso vediamo Si me lo da? Mamma mia ragazzi Che carino Ok invece la mia build Ho visto che divento praticamente Un mostro gigantesco Mi pompo enormemente E non lo so C'ho difesa Difesa Eltregen Danni Aoi Roba simile Attenzione c'è un approccio Alla torre Io mi ti guardo sui Non so cosa sia succedente Chiaramente non ce la faccio a buttare La torre Veloce Eeeh 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 Ma tu dove cazzo vai il drape Idiotino Ti spacco Ti spacco Sciocchetto Ma che sono sti danni? Tu che fai sciocco? Sciocchino dove vai? Rampage E' il momento per usare Bello comunque Bello che questa ultima è piaciuta Dai che ci portiamo a casa anche la torre Non è vero Si ensi lo barbatrucco Lo barbatrucco Vedo la torre Mi nascondo So piccolo dando Veloce Veloce Anche che mi ha dato attacchi Livi No No Perché non mi faceva danno? Stavo attaccare la torre Si prendendo la cosa positiva è che possiamo prenderci La nostra cestina Io vado a dare una mano qua Che vedo un sacco di bordel Allora ragazzi E' arrivato un nuovo sceriffo in città Guardalo guardalo E dai non scappare via da me Guarda tu Eccolo Tu devi stare rilassatissimo Ti spacco tutto Ti spacco tutto Tanto ormai la nostra lane è presa la torre Quindi Niuji Mo puntiamo le altre lane Uhuhu Uhuhu Andiamo 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 Dai dai che ce la famo Easy 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 No Oh sto pari posizione tutta Corri corri Porca miseria Porca miseria Vorrei fare un girettino da dietro se è possibile E beccarli un po' alla sprovvista Tipo così Adesso Ai Morca putta Quando poco Oh 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 E allora a questo punto andiamo a pushare con lei Non stop Nel prossimo video voglio provare a puntarvi di nuovo l'arena E' una modalità divertente E' senza tattiche praticamente Cioè Rispetto ovviamente in macchina Rispetto a un gico contro il gico normale Cioè le tattiche siano molto molto meno Vediamo se riesco ad arrivare In un'altra lane Senza farmi più o meno vedere Uhuhu Sì oh sorpresa No usa usa No stronza Mi sono riuscito a fare un cazzo Mannaggia A me mannaggia Mi lancio il cappellino Vabbè quello è morto lo lasciamo Al suo destino No andiamo a pushare Qua E' morto Mi ha focussato la Fenice Aiuto Lasciato 34.3 ma cos'è Non hanno giocato quell'alte Ho un pregio di bot Allora siamo finiti i boots E mi faccio questo martellino qua Frostbound Hammer Ho usato il mio Il mio relic Il TP Mi ha salvato un po' di strada Intanto Cappellino Allora tu Dovrei ammazzarti Vediamo un po' se ce la faccio Ah scappi Scappi Ma quello che si sta facendo là Adesso sono cazzi suoi Livellino 8 Ho provato proprio a sbattere per bene Tanto devi tornare indietro Ah mi si è pure livellata l'ultimo Ma sono cazzi tuoi proprio Ti vengo a prendere con un ombelino Ah sorpree Quanto cazzo io ho tolto Ma quanto cazzo io ho tolto Quello con la 2 Però stava facendo l'unica cosa Che poteva fare in questo secondo Vista la situazione Cioè split pushare Eh Vabbè dopo lo vedo Amate random Attenzione Cioè Ma che cazzo No in 2 no In 2 no Oddio Oddio Forse potrei anche cambiare idea Sì 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 Vabbè non so che cazzo ci abbiamo fatto 45 e 4 Ma perché non sorrendono questi Io personalmente Non troverei divertimento A giocare un game del genere Con Che il top verde 45 kill a 4 E infatti hanno sorrendato Carino questo personaggio Non mi è dispiaciuto Ragazzi io vi ringrazio moltissimo Per la visualizzazione come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi